In solo 10 lezioni potrete diventare cantautori, non solo direi cantautori, ma anche cantautori internazionali, grazie al traduttore di Google. Quindi diciamo che scrivete un testo, un testo qualsiasi, nel mio caso si intitola i pesci scivolano nei laghi oscurati da un velo di pioggia e poi immettetelo nel traduttore di Google che si trova, nella home page di Google, in alto a destra, troverete appunto questo traduttore, traducete il testo in 5-6 lingue e attraverso questo approccio, attraverso le mie lezioni, in solo 10 lezioni potete diventare un cantautore, ma non solo un cantautore italiano, un cantautore che può anche spaziare, può anche girare per l'Europa, quindi la prima operazione da fare, appunto, che vi indico è scrivete un vostro testo, qualsiasi.